Città silenziosa all'arrivo del Ministro della Salute, Giulia Grillo, dopo essere stata immattinata alla città ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, nel primo pomeriggio è arrivata ad Ariano per una visita all'ospedale Sant'Ottone Frangipane, accompagnata dal sottosegretario all'interno Carlo Sibilia, il senatore Ugo Grassi e i deputati Michele Gubitosa e Generoso Maraia. Ad attenderla il manager Asle Maria Morgante e il direttore del presidio ospedaliero Alfonso Fortunato. Prima un briefing nell'ufficio del direttore, poi un rapido tour nel reparto di cardiologia, radiologia ed oncologia. Il presidente della regione, commissario ad acta De Luca, ha disposto ai direttori generali di non fare entrare persone estranei nei reparti, il motivo per non distogliere dal lavoro di cure i dipendenti. Nel reparti, ha detto De Luca, i pellegrinaggi di politicanti sono proibiti, altrimenti prendiamo misure disciplinari contro i dirigenti. Nessun candidato ad Ariano era presente e la stampa è rimasta fuori dalle porte dell'ospedale per attendere le dichiarazioni del ministro sulle prospettive del Frangipane, dea di primo livello e soprattutto in attesa dell'impianto di radioterapia. Guardi, come sapete, noi abbiamo come ministero nella definizione della rete ospedaliera abbiamo chiesto che venissero rafforzati i dea e quindi è stata individuata questa struttura che non avrebbe dovuto essere un dea ma solo un pronto soccorso semplice, quindi naturalmente adesso si deve lavorare per applicare appunto quanto individuato, quindi sicuramente è una cosa importante per il territorio, visto anche che ci sono degli impegni, e vediamo un po' insomma di vedere poi nel tempo dovrà arrivare la risonanza magnetica, i quattro posti di oncologia da diciamo semplici poltrone dovrebbero diventare dei quattro posti di degenza e per cui insomma ancora c'è un po' di lavoro da fare. Per la radioterapia al ministro? E la radioterapia come sapete ci sono 4 milioni di euro individuati proprio per la radioterapia, per cui anche lì dovrebbe insomma a breve, i tempi non ci sono stati dati, ma mi sembra che il direttore abbia detto che già insomma è tutto già avanzato a livello di programmazione, per cui ripeto magari vi riverrò a trovare come diceva. C'è il governatore De Luca che ha appena fatto un video abbastanza polemico su questa visita, vuole replicare. Come mai? È sempre così rilassato il presidente De Luca? No, ma io non l'ho neanche visto, guardi non ho il tempo di vedere tutti i suoi video, dovrei smettere di fare il ministro evidentemente, però mi è stato riferito che parla di passerelle elettorali, evidentemente lui normalmente fa così, quindi forse pensa che gli altri facciamo così, di fatto io non sono candidata e con me non è nessun candidato, quindi la cosa si commenta da sola evidentemente. Ma anche il fatto che delle passerelle elettorali del governatore De Luca se ne occupano anche la procura di Avellino, quindi sono altre le problematiche di cui si deve occupare. Ecco, magari insomma, anziché pensare sempre a me.